Finito lo spoglio delle regionali, soprattutto nei piccoli centri, sono circa 900 i comuni in cui si è votato anche per le comunali, è cominciato lo spoglio per decidere chi sarà il sindaco del prossimo quinquennio. E tra i tanti comuni di cui si sta in questo momento decidendo il futuro e il nuovo sindaco vogliamo parlare di un caso abbastanza curioso, è il comune di Ceppo Morelli del Verbano Cusiossola, in particolare della Valle Ossola, dove si sono sfidati marito e moglie e ha vinto il marito. Livio Tabacchi, sindaco uscente, con il 73% dei voti, ha battuto la sfidante Maida Forgia, che adesso dovrà fare l'opposizione al marito con cui è sposata dal 1983.